Ma che cosa dici? Cosa strilla? Non ho capito Luzio, è serito sull'albero! Voglio una donna! Voglio una donna! Ma dove te la vado a prendere adesso, madonna, figlio mio? No, ma che donna tu ci prendi? Luzio, Dio, guarda dove è andata a finire! A voi, madonna! Oh, mio Dio! Eccolo là su, babbo! Dio, ci sono i nidi là su! Dai, Dio! Senti giù, no, che ti puoi far male! Cosa fai? Ti va a prendere una scala! Ma cosa facevate così che state attenti? Come fate ad andare a finire su quell'albero? Babbo, vado su a prenderlo io! A te ti do un cazzote in testa che ti faccio fare un buco in terra! Voglio una donna! Ma come ha fatto ad andare fin là su? Ma se casca si sfraccella? Miranda, Miranda, chiuditi in casa te! Non cominciamo a fare il teatro! Il teatro! Voglio sapere come ha fatto! Stavamo bevendo un bicchiere di vino! E allora? Con lui! Qui continuo! Bravo! In un momento! Corrello, chi l'ha vista? Schissato su come un gatto! Teo, ma cosa fai? Ti risassi il testo al tuo babbo? Teo, scendi giù! Basta adesso! La mamma! Ma è meglio prendere un buco in casa! Dai, non fare così anche te! Teo, scendi! Non vedi che tuo fratello fa rabbia? Venite giù, su! Voglio una donna! Beh, ma è un bisogno più che normale! C'ha 42 anni! Sì, ma quello casca, eh! Ma io, a 42 anni... Hai voglia? Ma adesso basta! Scendi giù! Scendi giù te! Ascia! 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 Ah! Ma il colpo, sio! L'hai preso in testa, bravo! Lo testo! Hai fatto zento! Adesso vengo su io! Muo meno lo tirare, eh! Ci portiamo a casa gli uccellini! Ma che roba è? Ma ci voglio ammazzare tutti! Adesso vengo io! Sì, signore! Guarda che se mi prendi a me va a finire male! Eh? Che brinco la madonna! Foscia, questo è l'assassino! Putnagli un colpo in tiguaio! Voglio una donna! Cosa faccio? Cosa faccio adesso? Una pughetta mi faccio! Sono un patata! Sono un patata! Sono un patata! Allora si va a casa! Tino! Dai, Tino, attacca il cavallo che ce ne andiamo! Presto! Andiamo a casa tutti! Partiamo! A casa! Ma signor Avreglio lo lasciate lassù! Sì, signore! Lo lasciamo lì! Attacca il cavallo! Andiamo! Eh, vabbè! Come volete voi! Babbo! Titta! Chiama la mamma! Dov'è la mamma? Lo lascio da sopra! Ci sta benissimo lassù! Andiamo, voglio andare a casa! Ma è mio figlio! Ma Aurelio sta a sentire! Voglio una donna! Piranda! Andiamo via! Scendi giù! Babbo! Che so? Venite via! Ma è malato! Non ci siamo finca! Movetevi! Aurelio senti! Mandatemi su a me! Ci parlo io! Lo porto giù, vedrai! Miranda! 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 Portate su in carossa! Tutti! Aurelio! Andiamo subito! Cosa fai? Su, venite! Non è mai fatto così! Oddio! Te cosa fai? Rimani lì? Noi ce ne andiamo, sai? È tardi! È quasi notte! Poi non c'è nessuno che ti porti dietro! Vuoi restare lì? E va bene! Ciao! Se gli tirassimo con lo schiotto, forse! Teo! Venite giù! Teo! Viva la Madonna! Senti giù! Sì o no? Senti! Guarda che tempo, via sai! Vai! Teo! Venite giù! Ciao, Teo! Ciao, Teo! Ciao! Sbaglio! Ciao, Lucia, ci stendi a tutti oggi! Via! Montate giù tutti! Tutti giù! Giù dalle palle! Facciamo, babbo! Non fate domande dello schiavo! Non piangi tu! Tutti giù! Non è stato matto da te! Ti raccordi all'ospedale! Va a chiamare gli infermieri! E torna subito che mi butti nel passo! Ma sai da piangere? È tutto da ridere, tutta la comica! Ehi! Non è stato matto! Ma senti, piratto? Povoletto! Mi sentite meglio? non lo posso più sentire non lo posso più sentire fatelo star zitto basta vado a chiamare la colpina ma guarda ma sono arrivati buonasera dottore ma che è successo sta sull'albero bel posto aria fine ma è tutta roba ma dottore cosa dice una casina non ci cuore che la su adesso non si vede perché mezzo le foglie niente lavati la risassi deve andare avanti così tutta la vita dottore non so come una canana mamma per lui per noi sta regalmo ci pensa lei prendere il fresco posso prenderlo lei ho fatto scendere mamma è tutto contento eccolo qua beh si è rimessa a fare un'altra volta il birbacione no come no e lassù che c'è faccio contando quanti ossi c'hanno i figli di sta stagione davvero si va a casa che ci volete a fare certi giorni è normale certino come tutti noi del resto ciao zio ci vede per il paese di cicino di lassù quanto tempo è che non lo vado a trovare ciao 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 ciao